È quello che credo che sia. Do un'occhiata da vicino. Attenzione. La strada del generale Tarsis. Qualcosa non può fare. Faye, Alok, non vi sento bene. Faye, lo vedi anche tu? Faye, mi ricevo... Non può sentirti? Owen! Accidenti. L'Australia non funziona, eh? Che sfortuna. Clicca. Che cavolo stai facendo? Oh, su, via, andiamo. Non è ovvio? Ciao, bellezza. Oh, carino! È finalmente il mio momento. Niente più attese. Nessuno ti lascia in disparte. Lo scrutatore risparmirà il forte se mi schiaro con lui. Come puoi aiutare il dominio? Sai cosa ha fatto? Sì, so benissimo cosa ha fatto. Possiamo... batterlo. Oh, infermo! Oh, infermo! Non è atroirato... Oh,hermone! ... Og'è...